Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con il grande robot dell'animazione giapponese, da un'idea di Gonagai, il Mazinga Z, edizione a Shet, altezza del solo robot 75 cm, completo del centro ricerche fotoatomiche dove sul punto più alto avremo un'altezza superiore ai 92 cm. Uscita numero 74, seguirà anche sempre nello stesso video il montaggio dell'uscita numero 75 delle 100 previste per il montaggio di questo splendido robot. Consiglio a tutti, se siete ancora in tempo, di farlo perché, e ovviamente se si è nelle possibilità di poterlo fare, perché non vi pentirete, è qualcosa di meraviglioso. Intanto se avete piacere iscrivetevi al canale, attivate la campanella, ecco qua il mio amore Michelangelo. Ciao amore mio! Quasi quasi sai che c'è? Che in futuro forse cambiando i contenuti di questo canale e aprendo un canale nuovo tutto per te, forse riesco a fare qualcosa in più, sai, non ne ho dubbi, secondo me non ho dubbi perché lui parla da solo. Ciao amore mio! Guardate quanto è bello il mio amore! Michelangelo, grazie a tutti quelli che lo salutano. Dicevo mi sono perso, se avete piacere iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date un'occhiata anche alla playlist, lì potrete trovare altri modelli e non solo di robot e infine se ci fosse qualcuno interessato al montaggio del proprio modello, mi contatti privatamente, grazie. Volutamente e doverosamente saluto i miei 12 ragazzi, 12 abbonati, stanno aumentando questo canale poverissimo, sta diventando un canale povero, ma rimane sempre un canale casalingo alla portata di tutti quelli che chiaramente apprezzano quello che io riesco a fare nelle mie possibilità e capacità perché non sono un professionista, però sono sincero, è un canale come posso dire, alla buona ecco, alla portata come ho detto e ripeto di tutti quelli che desiderano qualcosa di semplicissimo, ecco non troppo magari riuscissi a farlo, complicato, complicato forse il termine sbagliato, volevo dire qualcosa di più professionale, ecco, con riprese più valide, sigla, didascalie senza dire sempre iscrivetevi al canale se avete piacere abbonatevi. E a proposito di abbonati, come dicevo prima, i miei 12 abbonati volevo salutarli iniziando dai sostenitori amici che sono quelli della fascia più bassa ma importantissimi perché comunque contribuiscono economicamente al sostentamento di questo canale e io vi ringrazio a tutti con tutto il cuore. Quindi sostenitore amico Paolo, Luca, Roberto, Lamberto e Massimiliano. Poi c'è il sostenitore primo livello che è Franco, il sostenitore in questo caso sostenitrice per ben la seconda volta che è Alessia e poi gli altri sostenitori sempre speciali come Alessia, Roberto, Marco e Luigi e infine quello di fascia più alta dove potrete trovare tutti i video compreso quelli di modifica importante di stabilità di questo Mazinga Z che è bellissimo però c'è sempre se volete andare a levare i giochi fastidiosi nelle caviglie, nelle ginocchia e nelle anche io sono andato anche a sostituire i gommini quelli della rotazione delle gambe. E tutto nel video appunto in abbonamento dicevo di livello diamante che è il più alto e c'è Michele e Alessandro. Grazie a tutti ragazzi. Allora mi devo scrivere tutto perché non mi ricordo tutto ovviamente. Seconda parte della corazza addominale, la prima l'abbiamo montata nell'uscita precedente, la 73, abbiamo quindi la parte posteriore della schiena con l'armatura interna in ABS, questa in zinco pressofuso e una serie di viti, queste a stella. Guardate bene la testa, non confondetele per nessuna ragione con queste che sono più grandi, sempre a stella. Guardate, queste non sono da usare, sono da usare queste. Ve lo dico perché è vero che in questa uscita troviamo solo quelle corrette, però se le avete mischiate e sbagliate non va bene. Ecco tutto qui. Con queste viti sono andato a crearmi sei filetti. Uno, due, tre, quattro, cinque e sei. Adesso vado a svitarmi tutte le viti e vado a montarmi la struttura interna in ABS. Il montaggio è tutt'altro che complesso, molto semplice, che questo non vuol dire che sia semplice questo Mazinga perché c'è uno studio di progetto, ragazzi, che anche se dal numero 76 ci costerà un euro in più e a finire la collezione saranno 25 euro in più. Nessuno può dire che questo modello non li valga tutti. Immaginate soltanto il radiocomando per tutte le funzioni che ci arriverà, cosa non è? Allora, questa parte qui, verso l'alto, così. E me le vado a fermare con le quattro viti che ho appena tolto. Cosa c'è, amore mio? controlli? Sto andando bene? Le punto tutte e poi le stringo dopo. Ecco qui. Vado a svitarmi queste due che terranno fissa poi la seconda parte esterna, quella in metallo. No, è andato qua dentro. Cosa devo fare secondo voi? Mettere la pausa e girare il robot al contrario. Guardate dove è andata a infilarsi questa vite. Allora, vedete questa? Ha questo gioco qui, su e giù. Questo vi servirà molto quando poi, andando a mettere questa parte in metallo, se trovate che ci sia una parte dove esce o rientra, potete lavorare su quella plastica. Dovrete andare a svitare questo pezzo e lavorare su questa plastica qui, mi raccomando. Io, ad esempio, adesso la metto in posizione e poi avvito solo due viti in diagonale. Poi metterò la struttura in metallo sopra e devo ricordare di togliere la vite che mi è caduta dentro. La parte, ovviamente, ad arco va verso l'alto così come la plastica. E controllo. Prima di avvitare tutto. Controllo. Di qua. Va bene, di qua va bene. Guardiamo anche la parte alta. Se combacia bene. Direi di sì. Posso quindi stringerle bene tutte e quattro. Ho il mio Michelangelo sotto che guarda la moto di Sayaka. Questa me l'ha già addentata due volte. Meno male che non mi ha lasciato dei segni. Allora, vediamo un po' la vite. Dove è andata? La vedo? Sì, la vedo. E' bella l'ha detto. Devo vedere se riesco anche a prenderla. Forse con questo. Eccola qui. Che fortuna. Bene, adesso vado semplicemente a mettermi questo pezzo. Lo tengo perché non mi cada in testa il mio Michelangelo, amore mio. Ecco qui. Perfetto. Stringo che è a posto così. Ecco. Una meraviglia. Adesso il montaggio di questo fascicolo è così terminato. Passo subito al numero 75 e chiudo con quest'ultimo video questa ultima consegna ricevuta. ecco qua. Prendo il pezzo qua dentro. Terza parte della corazza addominale. tre serie di viti una da vitare nella plastica questa e questa nel metallo con il cacciavite a croce la stella a croce dietro questi sono i profili superiori questo è il profilo superiore dell'armatura e questi sono i profili sinistra e destra della corazza addominale in ABS verniciati, vedete? Come vi ho detto nei video unbocchi controllate soltanto che ci sia il numero 1 e il numero 2 altrimenti non sono corretti può succedere è che gli arrivino magari due pezzi sbagliati o meglio un pezzo sbagliato può succedere allora iniziamo da qui ci dicono di mettere questo qua ecco qua però vedete che c'è il profilo giallo ve lo faccio vedere e se andiamo a vedere sulla leggenda questa è la leggenda con una gisola la zona da incollare è delineata con o meglio evidenziata con il colore giallo quindi ci dice di usare la colla di incollare questi due pezzi e quindi bisogna incollarli adesso io mi preparo dell'epossilico bicomponente e vado a mettermi della colla e mi vado a incollare vi dico subito così poi quando attiverò di nuovo il video saranno già tutti incollati i pezzi allora questo è messo così mettiamo questo in questa maniera questo è il numero uno e infine l'ultimo il numero due ecco qua devo solo incollarmeli adesso metto pausa al video mi incolo tutto e ci vediamo dopo ragazzi ok ecco qua l'epossilico bicomponente si è indurito io ho messo del nastro carta per tenere tutto adesso vado a staccare tutto il nastro carta eccolo qui bellissimo questo pezzo poi devo andare a mettere questo giro aspettate che alzo l'inquadratura giro il robot dalla parte anteriore così anche se poi dovrò girarlo nuovamente per poter avvitare il pezzo però vi faccio vedere questo va messo così ecco quindi dobbiamo prendere le due viti queste sempre con la testa stondata ne prendiamo due eccole qui vado a crearmi il filetto dietro allora questa va messa così quindi il filetto va creato da questa parte è che è che è che è che è attenzione a non ferirvi con il cacciavite mi raccomando bene adesso giro così la struttura questo imponente mazinga z bellissimo la parte ovviamente più stretta va sotto io devo entrare con le mie due viti qua aspettate che inquadro ecco qua ma qui è una qui l'altra vita è qua dietro usero poi in cacciavite con lo stelo più lungo solo che questo è calamitato l'altro no ecco qui lo stringo tutto subito sapete andiamo a vedere un po qua ma ricordatevi quello che vi ho detto nel video precedente quando andremo poi a mettere la parte dietro di copertura se ci sono delle diseguaglianze qui di giuntura vi basterà smontare di nuovo questa copertura che adesso vado a mettere e regolare di nuovo questo perché si può muovere un po però adesso non lo possiamo sapere io ho fisso e poi vedete può andare anche più su più giù io adesso lo tengo tutto alto vedete questa plastica qui non so se si vede guardate questo bordo vedete io lo tengo a filo qua del metallo però potrebbe anche non essere corretto però io lo tengo così qualora non lo fosse farò quella quell'intervento di cui parlavo prima ecco qua bene a questo punto ho messo le due viti adesso ce ne va anche una sotto vediamo un po quella sotto è 75 06 che è questa quella brugola corta cioè non è a brugola chiedo scusa è sempre con il calciavita stella ma più corta vedete c'è questa qua che è identica come passo ma è più lunga che era nell'uscita precedente questa qua a destra e c'è questa che va usata adesso che è più lunga che chiedo scusa insomma avete capito quella a destra è più lunga e non è da usare questa a sinistra è in questo uscita ve lo dico perché come vi ho detto prima se mischiate le viti sbagliate perché è vero che in questa uscita troviamo queste non ci possiamo sbagliare però se le avete mischiate vi sembrano uguali sappiate che non lo sono ecco è quello ve lo dico adesso metto la vite anche qua sotto questa che vi ho appena fatto vedere non vedo spero combarci con il foro allora basterà muovere un po questa ma certo se riuscisse a guardare da sotto sarebbe stato ancora meglio anzi facciamo così allentiamo anche queste due viti che ho appena messo prima e poi stringiamo tutto perché quella mi dà la direzione precisa come centraggio di questo pezzo oh mannaggia mannaggia bisogna stare attenti alle parolacce qui non sono mai belle da dire ma a volte ecco vedete è stato più semplice avendo allentato dietro qua posso stringere forte perché più di lì non posso registrare quel pezzo adesso però posso mandare in su questo e stringere tutto ecco bene a questo punto mi rimane da mettere solo quella vite lì allora ok stavo guardando anche un'altra cosa un attimo sì è a posto così penso che mi rimanga solo da avvitare l'ultimo pezzo con quattro viti che sono sempre le porte cioè queste qui quello che ho appena usato per avvitare sotto la parte in plastica cosa c'è michelangelo e dietro di me tra non molto salterà nel cubo box allora queste quattro viti vanno semplicemente avitate qui quindi e preparo già una se ce la faccio vediamo un po la inserisco già nel foro che mi sarà più semplice così infatti metto una anche di là ma ragazzi che progetto che progetto pazzesco mai visto niente di simile mai visto niente di simile in tutta la mia vita peccato che il grande mazinga non lo abbiano fatto bello come questo è veramente un paradosso perché di solito sono le prime uscite no i primi progetti che sono meno rifiniti no mi è andato di nuovo dentro vediamo se ce la faccio ma questa non non credo che mi aiuti vediamo 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 ce l'ho fatta sì meno male dicevo che di solito sono i primi progetti no quelli meno rifiniti e invece nel grande mazinga se guardate i video giapponesi quanto vorrei sbagliarmi non ha la struttura interna pari a questo neanche paragonabile non ha nessun centro ricerche foto atomiche non ha comunque anche una scenografia niente peccato vi ricordo sempre che qui poi ci saranno tutte le coperture da inserire state tranquilli e che il numero nell'uscita 100 probabilmente mi sembra l'uscita 100 vi arriverà anche il lo snodo dei gomiti è perché quello che avete che si vedono le cerniere aperte vedete quello che lancia i razzi è solo per lanciare i razzi se poi invece vorrete presentarlo come in questa foto ci sono proprio le giunture dei gomiti con gli snodi appositi guardate ragazzi cosa non è mamma mia che bello sono veramente contento so di avervelo già detto guardate la moto la moto di Sayaka va bene ragazzi io vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo un abbraccio e un saluto a voi aspettate però perché qua c'è qualcosa che non mi piace cioè questa giuntura ma non le ho strette queste viti ricordo di sì sì le ho strette però oh mamma mia è rigidissimo il mio ragazzi andate a vedere l'abbonamento e ci va l'abbonamento mi dispiace però qua il canale non va avanti assolutamente se non faccio così allora qui c'è questa apertura che non mi piace come la posso risolvere vediamo prima come si presenta di qua l'unico modo per risolverla sarebbe quello di consumare del metallo che non vorrei fare questo lavoro qui adesso provo a vedere una cosa allora un po' di apertura qui vedete devo capire come mai allora e l'ho capito come mai bisogna consumare un po' di metallo qui su quest'unghia perché è lì che tocca ecco perché non chiude bene guardate vedete che sopra tocca se io premo comunque tocca sopra ecco perché non chiude bene è un lavoro un po' da certosino ma non posso farlo su questo pezzo perché ho il segmento vedete che esce lo posso solo fare qui andando a consumare un po' questo questo pezzo qua per adesso chiudo così il video aspettate eh sì in realtà è solo lì il punto critico diciamo niente di così impegnativo però anche da questa parte vedete sotto tocca sopra tocca in mezzo c'è la luce adesso con una mano non riesco a premere come prima però è così va bene ragazzi io adesso chiudo così il video poi me lo vado a fermare a fermare chiedo scusa vado ad intervenire sui due punti che vi ho detto come vi ho detto però io direi che questo montaggio può così terminare vi ringrazio del vostro preziosissimo tempo un abbraccio e un saluto a voi un saluto a tutti i vostri cari più cari da me e il mio amore Michelangelo che momentaneamente è uscito dalla scena vi faccio solo rivedere ecco vedete che tocca sopra quindi mi basta semplicemente consumare questa parte qua sopra dall'interno così da mandarlo in battuta anche se questo è il pezzo che mi devono sostituire eccolo qua Michelangelo è arrivato è arrivato il mio amore questo è il pezzo che mi devono sostituire perché è fallato qui vedete c'è una crepa ve l'ho fatta vedere nell'unboxing cosa c'è amore e da questa parte tocca sempre sopra in mezzo e largo è solo quello il problema però non vado adesso che mi ricordo a intervenire su questo pezzo aspetterò il pezzo che mi arriva e poi se sarà il caso interverrò come vi ho detto su quello ve l'ho già detto cosa devo fare così potete farlo anche voi poi se è il caso lo metterò in abbonamento ma ve l'ho già detto bene ragazzi grazie a tutti un abbraccio e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari se l'ho detto lo ripeto non è mai troppo io vi ringrazio anche e soprattutto se oltre agli abbonamenti condividerete i miei video nei gruppi dedicati questo mi aiuta molto sto crescendo ma è dura ragazzi molto molto dura io condivido con voi tutto questa è la verità saluta amore mio miau miau dagli artigli di Michelangelo è tutto eccoli qui cosa mi vuoi fare guardate è una tigre non è un gatto una tigre ciao ragazzi ci vediamo al prossimo video e grazie sempre del vostro preziosissimo tempo